sono le 6 e 57 di oggigiorno 18 ottobre 2021 e ho già ripreso un altro video delle ore 6 e 37 medesimo giorno naturalmente e ho rappresentato questo addensamento che è qui nella piana di venafro rappresentato addensamento che alle ore 6 e 37 era molto più più denso e adesso risulta essere la rifatto ho anche ad occhiato il meteo che dice che il cielo è sereno nella piana di venafro web.com un servizio prestato da google ripeto adesso l'addensamento risulta essere meno rarefatto e poi naturalmente sono qui a rimarcare anche il solito odore acre molte volte rappresentato anche alla stazione dei carabinieri di venafro ok 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.